Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia Research, di Alessandra Ghisleri, se si andasse a votare oggi il PD sarebbe ancora il primo partito, subito seguito da Fratelli d'Italia. Secondo le rilevazioni fatte da Euromedia Research, nel sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri, se si andasse a votare oggi il PD sarebbe ancora il primo partito italiano, subito seguito da Fratelli d'Italia nelle preferenze degli elettori. Tra i due partiti è ancora testa a testa, le divisioni all'interno del centro-destra danno ancora un vantaggio al partito di Giorgia Meloni, mentre probabilmente il ruolo di primo piano che si è saputo ritagliare il segretario Enrico Oletta nel dibattito interno sulla situazione internazionale e la guerra in Ucraina, hanno giovato alla sua forza politica, che si è mostrata abbastanza compatta, tranne poche eccezioni, sulla collocazione del nostro paese nell'alleanza atlantica e sull'invio di armi agli ucraini. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, per campione di Euromedia, il PD con il 21,6% guadagna 0.4 punti dal 16 febbraio scorso, ed è in testa la classifica, seguito da Fratelli d'Italia con il 21,4%, più 0,4% rispetto all'ultima rilevazione. La Lega con il 16,3%, meno 0,6%. Si colloca alla terza posizione. Non convince insomma il pacifismo di Salvini, e il Carroccio paga le conseguenze delle posizioni decisamente filorusse del passato. quarto in classifica il M5S con il 12,5%, meno 1,2%, seguito da Forza Italia o l'8,1%, meno 0,4%, ed è azione di Carlo Calenda, stabile al 4,8%. Quindi più giù troviamo Italia Viva con il 2,5%, più 0,2%, e poi tale exit di paragone al 2,3%, più 0,3%. Scende al 2% la Federazione dei Verdi, meno 1,2%, che si è detta contraria all'aiuto materiale fornito dall'Italia alla Resistenza Ucraina. Mentre MDP Art 1 scende all'1,8%, meno 0,1%. Stabile sinistra italiana all'1,6%. Infine altri di centro-destra risultano all'1,2%. Grazie a tutti.